Anche il Sindaco ha ammesso che in questo decreto legge è stato tutto disatteso, soprattutto per quanto riguarda il personale. Cioè chi ha consigliato addirittura ne andrà a riconsegnare le fasce? Guardi, è un fallimento, lo possiamo dire a chiari lettere, è un fallimento della politica, di chi ci doveva rappresentare, e di chi si era preso un impegno perché questi emendamenti, questo decreto sisma così come era stato presentato, sarebbe in qualche modo passato. Abbiamo fatto delle riunioni dove il dottor Rivera aveva preso degli impegni per arrivare addirittura a 100 pratiche mensili, ma grazie a questo nuovo personale che sarebbe arrivato. Al comune di Teramo erano state designate sette unità, adesso non arriverà nessuno, praticamente noi torniamo indietro e tutte quelle promesse elettorali fatte dal PD e dal Movimento 5 Stelle purtroppo sono rimaste semplicemente delle promesse. Io voglio ricordare a chi chiaramente ci ascolta che abbiamo speso 370 milioni per mantenere le persone fuori, e continuiamo a spendere questi denari ma non per ricostruire. Chi ci governa purtroppo sono persone impreparate, persone che non sanno realmente quelle che sono le problematiche, oppure chi dovrebbe rappresentare queste cose al Parlamento non è in grado di farlo. Quindi di conseguenza io spero che il sindaco abbia il coraggio non solo di andare lui, ma di chiedere a tutta la cittadinanza di iniziare a manifestare. Dobbiamo obbligatoriamente scendere in campo, dobbiamo obbligatoriamente far capire che noi non possiamo rimanere con un cratere che duri almeno, rimanendo con queste percentuali, almeno 40 anni. Noi non possiamo. Un fatto che spendiamo tantissimo di contributi attorno alla sistemazione per non ricostruire. Per non ricostruire preferiscono spendere i soldi e darle non nel senso della ricostruzione, ma in un qualcosa che non ha nessun significato, sono denari sperperati. Noi dobbiamo dire basta, se non sanno governare facessero altro. Se non vogliono iniziare a capire quello che è il problema del territorio, noi dobbiamo diventare un pochettino più francesi. Dobbiamo cominciare a occupare le piazze, dobbiamo cominciare a far capire il nostro disagio. Grazie.